buongiorno buongiorno dal dottore claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi di cs vera professionale con la v maiuscola oggi rispondo un signore che mi chiede dottore come ci si sente quando si è ipnotizzati quando si utilizza l'ipnosi di cs vera professionale quando si come dice lei si tolgono si eliminano le nuvole nere dal nostro subcosciente dalla nostra mente bene a me l'espressione la più felice che mi viene in questo momento in mente è quando tu dopo una tempesta un uragano una una settimana piena di piogge di nuvole nere vedi spuntare il sole come in questo momento il sole che ti dà quella luce che 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 annulla il buio che annulla tutte le nuvole nere che le spazza via questo sole sgargiante che ti riscalda la pelle giallo dorato bellissimo e tu puoi ottenerla anche con un solo audio mp13s dal titolo ad esempio no depressione no tristezza che trovi sul sito dell'associazione il proletto associato los angeles baby hills nella tua lingua dovunque tu abiti nel mondo e ti posso garantire che è una cosa incredibile creato con delle parole pulite trasparenti senza nessun effetto indesiderato parole ad hoc ad arte intrise pregne di un antico sapere che sfiora il secolo che provengono direttamente da due grandi artisti dell'ipnosi vera e professionale con la v maiuscola la dottoressa rina prunini il professor dottor michelanghel garai miei maestri miei associati miei amici per l'eternità io ho messo soltanto un 30 per cento perché da più di 12 anni mi ipnotizzo h24 e anche adesso sono ipnotizzato sono l'unico caso al mondo ad essere ipnotizzato h24 significa ogni santo secondo 84 mila 600 di ogni santa giornata come in questo momento anche se non sembra né a te né agli altri e mi trovo benissimo perché non mi costa nulla con il mio metodo dcs non mi ruba tempo non mi stressa non mi impegna non mi fa mettere gli auricolari eccetera 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 provare per credere fammi tutte le domande del caso soprattutto per email ti risponderò direttamente o indirettamente tramite i miei collaboratori associati visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com la mia fanpage su facebook ipnosi audio ipnosi del dottor claudio saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione di cester dottore claudio saracino e fai share condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita come è successo a me il 2008 centinaia centinaia di persone nel mondo e seguimi anche sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzione di cester dottor claudio saracino un bacio un abbraccio amico mio amica mia alla prossima ciao